ciao ragazzi bentornati sul canale oggi un bel video veramente vero simona veramente è nata via la voce comunque oggi un bel video perché come detto 3000 volte in tutti i video vi ho rotto le scatolette con questa parola di arrivare e oggi è arrivato lo speciale 10.000 iscritti grazie non si riturba datti zitta e lo speciale 10.000 iscritti 10.000 volte grazie a tutti voi grazie è un traguardo bellissimo è un traguardo grande grande per noi non pensavamo neanche di poterci arrivare con questa qui comunque detto questo come detto in 3000 video oggi partirà il partirà il partirà il partirà il partirà il non sento non sento non lo dici bene partirà il 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 partirà le cuffiette poverine io voi avete le cuffiette io ce l'ho qua ce l'ho qua ce l'ho qua nell'orecchio adesso ti tiro un cazzottore in faccia ti 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 faccio andare via la voce cazzotti cazzottore in faccia vero comunque in questo video ci saranno ben due dico due ciu 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 due vincitori ciu 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 c tu ci 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 всех celli dici allora prima di farmi vedere i premi che sono già stati subivisi in secondo che è primo Regole Regole Regola numero uno Regola numero uno Regola numero uno Esseri iscritti Va bene Esseri iscritti al canale È fondamentale Beh ovvio no Così attivate pure la campanella Attivate la campanella Dai via Suonavo le campane Quindi Ecco molto bene Adesso la butto giù dalla sedia Al prossimo butto giù Simona dalla scheda Che scheda Dalla scheda Cosa ho detto Sedia Via Via Uno Anche Dali No Vieni qua Torna qua Oh no Scusate No non basta Ok 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 Allora Prima cosa Esseri iscritti al canale E attivate la campanella Che ci siete Se iscrivi Schiacciati Iscrivetevi Andate a fianco Schiacciate la campanella Che vi costa No È un percorso breve È un percorso breve Da fare Ma non mi capiscono Botta in diretta Botta in diretta Seconda cosa Mi sono scordata Eh Sì Se potete Condividete Capisco tutto Seconda cosa Se potete Condividete i video Ma sì Su Instagram Su Facebook Per chi lo ha Whatsapp In tutto il mondo Google Andiamo Percorriamo Tutte le isole Tutto il mondo Facciamo il giro Del mondo No fa freddo Però adesso Con lo nord No perché fa freddo Cioè poi c'è Babbo Natale Che sta lavorando Per portare le gali Insomma Disturbiamola Quindi a Babbo Natale Non immigliate In questo video Perché se no Disturbiamo Non arriva per il 24 E ciao Seconda Siamo alla seconda Terza cosa Mettere mi piace Al video Ovvio Eh beh dai Vogliamo tanti mi piace Per questo video Dai Siamo arrivati a 10.000 Almeno 10.000 like Tutti quelli iscritti Vogliono tutti i like Di quelli iscritti Non è vero Non sto pensando Pensa se ti Se ti viene Adesso Stamattina è stata a casa Non stava bene Veniva da 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 Blu Pensa se adesso Ti viene da Blu bu bu Come fai Blu bu bu Comunque Ma è uno che sta male Stamattina era così Mi sembrava Resident Evil Nel videogioco Lo zombie Comunque Se sei zitta Un attimino Ecco Poi la butto Veramente fuori di casa La faccio andare A scuola a piedi Andiamo a scuola A piedi In pigiama Vieni Allora Terza cosa No l'ho già detto Sono già arrivata Terza Allora Iscrivetevi Condividete E mettete mi piace Ok Poi Quarta cosa Dovete avere Dovete avere qualcosa Dove mandarmi il vostro indirizzo Ovvio perché Se no I pacchi Dove li mando io Dove mando sti pacchetti Se non avete un indirizzo Che non mi mandate l'indirizzo Dovete mandarmi l'indirizzo Comunque scriverò Tutto Dove mandarmi l'indirizzo E-mail Facebook Instagram Di Simona Perché io E' lei che segue Instagram Io se seguo pure Instagram Ciao sono a posto Mi posso buttare pure giù E-mail Basta Poi Scrivere sotto Nei commenti Partecipo Partecipo Anche solo una volta Non c'è bisogno di scriverlo Diecimila volte Perché tanto E' a random E pescherà un commento solo Per Anche se Simona Esempio Scrive dieci volte Partecipo Il Il programma Sa che è la stessa persona Quindi prende Uno Calcola solo Un messaggio Che ha mandato lei Gli altri A vuoto Quindi Detto questo Userò Un programma Random Farò il video Mentre Come l'altra volta Che è già C'è stato già Il primo Midway Farò un video Dove Faremo l'estrazione Dopo Voi vedrete E Niente Il Midway Durerà Un mese Oggi Quanto ne abbiamo? Oddio Quanto ne abbiamo? Quattro Quattro Cinque Cinque Oggi è cinque No Non so Prendi il telefonino Ragazzi Aspettate Che vado a vedere Ragazzi Sono andata a controllare Oggi è Il Quattro Quindi Il Gidway Finirà Ciao Il Quattro Gennaio Ah Il Comperanno Di Alessia Termina Gidway E Chi è? Chi è? Passiamo solo noi due È il Gatto? È Finca La verità E che? Fa' vedere Cos'è? Rumori sospetti Oh Niente? Vabbè Proseguiamo Niente Mi non è che così come ho preso Bah Qua cadono gli oggetti così Dai muoviti Siamo già a dieci minuti Ah si è aperto Comunque Terminerà il Quattro Di Gennaio A compleanno Di Alessia E I I Prodotti Verranno spediti Se il quattro È durante le feste Verranno spediti Il Appena dopo le feste Voi mi inviate l'indirizzo Io preparo il tutto E poi Ci sentiamo con i vari codici Di tracciabilità Perché vanno Vengono spediti con Con pacco Tracciabile E Detto questo Sì ho capito Mi hai fatto dimenticare Un mese Basta Metterò tutto comunque in descrizione Tutte le regole Di nuovo In descrizione E Non ho detto Basta no Sì Incominciamo Ho detto tutto Sì Sono da 10 minuti di regole Ma se tu mi confondi Sono Tutto tutto Un mese Un mese Ho detto tutto Sì Mi sono dimenticata Oddio Un mese Tutto Dai Novi Cominciamo Con il secondo premio Del secondo Così Mi caso Useremo Ah sì Useremo Ah ho già detto Quello Che useremo Dai Hai detto tutto Sì 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 Poi metti sotto Tutto in descrizione Non hai detto Questo No L'ho detto No Non l'hai detto Sì No L'ho detto Ragazzi L'ho detto Allora Incominciamo Mi piace Tip più tip Se in caso Non ho detto Qualcosa In descrizione Scrivo tutto Perché Con questa Tra i rumori E lei Ma vabbè Scriviamo Sto Buona Sto Io Dovrebbe Essere Un'altra Votra Ingo Di Questa Guarda 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 Mentre facendo I video Ti scorcio La bocca E se devi fare Qualcuno Mamma mia Tutto lo scorcio Sbavusciato E poi Non è che M'ho perdita Pavetta Vabbè Partiamo Con E Vabbè Adesso Facciamo Veloce Dai Sbavusciato 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 Come secondo premio Ce l'avete chiesto In tanti Immobile No Avete chiesto Non immobile Avete chiesto In tanti Avete chiesto In tanti Di creare qualcosa Nostra Per voi E mettere nei premi Sbavusciato 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 Ok Sbavusciato Sbavusciato c'è il video dove si spiega come si monta ed è nuova, non si apre, non si apre, poi si sta, è di celsi, è di celsi, è di barbie piccolina, non ti mette sul culo di barbie, poi c'è il regalo, la squaccare vuoi, e adesso non c'è unico, cosa hai detto? è che c'è il regalo, la sorpresa, la sorpresa, infatti non c'è unico che c'è la sorpresa, no? proprio, poi ci sono questi che non hanno senso però, lo metti lì, appiccichi dentro la casa, non hanno senso, e loro hanno senso, e c'è un uomo, e le soccorre la tru di Federica Riccardo, e poi, no, dobbiamo decorare la casa di loro, vabbè, per decorazioni della casa, di barbie, ok, poi ci sta un vestito, dove, non so come è il vestito, non possiamo aprire, è il nuovo vestito, no, l'ho fatto vedere, sì, ma non è un stato di filato, è un uomo, bellissimo, per barbie, ok, poi me lo prendi, io me lo fai, grazie, no, questo te lo prendo, non rompere le stature, vabbè, 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 poi ci stanno, dieci, dieci appendini, di barbie, dieci di barbie, per apprendere i vestiti, non si prendono le scarpe, vedete, dieci di questi, nuovi, divisi, sette paia di occhiali per barbie, perché barbie non ci vede, non ci vede barbie, allora, è mio che, quindi ho bisogno degli occhiali, quindi, se ne perde uno, ne ha un altro, poi se ne perde un altro, ne ha un altro, fino a sette paia, non può perdere sette paia di occhiali, barbie, dai, su, poi facciamo il primo premio, perché, perché, se no, vengono venti minuti solo per questo video, ok, allora, aspetta, fanno mettere via i gingilli qua, aspetta, Simona, cosa sta facendo, io mi preoccupo di Simona, ok, primo premio, passiamo, dai, ma no, ma cosa fai, ci stanno, un mobile, poi lo facciamo vedere, specificiamo, che vanno appesi del mobile, vabbè, se il mobile, sembra una pesci vendola, se il mobile, si sta vendendo le cose, con dieci appendini anche qui, mobile, vedete gli appendini, già appesi dentro, tanindano, un derindano, ok, dieci, e sono qua gli altri, anche qui, se fai gli occhiali, se fai gli occhiali, anche qua, perché fai gli occhiali, sono tutti miei occhi, poi anche qua, ci sono le fiacci, da vedere, su casa, a casa, così, se non vi sono, gli occhiali, devo ripetere, perché è buio, non capiscono una mazza, poi se sta anche, ma se è un po' zitta, stai spiegandolo, ma se è un po' zitta, se fai gli occhiali, queste bande miei, ma avete capito, questo, ma è da prendere la casa, così, è da prendere, per decorare la casa di Barbie, con i pelucetti, no, poi si sta questo, ma anche con un regalo, dentro, non ti dico cosa c'è, non ti dico cosa c'è, dentro, non ti dico cosa c'è, hai capito che non te lo dico? ma c'è un regalo, non ti posso dire, c'è un regalo, no, poi si sta questo, che è bello, sprucchettante, di nuovo, e non è un dust, è una pastina, per giocare, per giocare, tipo lo slime, se non è un slime, o forse si che lo sai, non lo so, qua ci sono, non so quante, paia di scarpe, belle, ci sono, due paia viola, due paia giure, due paia nele, due paia grigie, due paia rosa, due paia giure, non è, non è, scappette, vabbè, scappette, ragazzi, tutto uguali, con colori diversi, però con doppione, non so se 10, 10, forse 10, boh, vabbè, 10, sì, vabbè, ci sono 10 soglia di scaccio, poi, se è un, magliettino, perché se volessi giocare, a fare, la vendita, io ho i vestiti di Barbie, potete usarlo, lo montate, si mettete sotto il vestito, però non i pantaloni, perché non ha le gambe, poi ci sta, questo vestito, che è bellissimo, ce n'è anche la mamma, bello, e ci ha fatto, il, il, l'ho usato, il Don Ray, tutto come entrare, l'ho usato, a Giada, per il Don Ray, questo però è più lucido, questo è più nuovo, mi è più spento, e questo è più nuovo, bello, l'ho usato, l'ha anche Giada, per il Don Ray, se l'ho usato, perché si fai le gemelle di Giada, ecco, gemeline, gemeline, poi si sta questo, è un pacchettino, a caso, non è vero, è solo per contenere, questo qui, che è bellissimo, che potete mettere la barbi dentro, e navigare nel mare, però non dovete gonfiare, perché se lo fa così, e se non va così, gonfiare, non potete usarlo, e non lo bucate, perché è gonfiabile, il gonfiabile, sarebbe per i bicchieri, però noi usiamo per le barbi, tutti usano per le barbi, nessuno lo usa per i bicchieri, ma lo usa, e questo è per le barbi, io mi ricordo, e tu mi fesi questo, e questo è il fenicottero, fenicottero, anche la schiacera, chiamo, complimenti, e per finire con bellezza, e per finire con bellezza, sta facendo le televendiche, quella della televisione, ta-da, per finire in bellezza, abbiamo, lei, lei è uguale a Gialla, uguale a Gialla, quindi potete fare la gemella, gialla, canta mostra, potete mettere questo vestito, così potete mettere la gemella, allora, questa parte è uguale a Gialla, e qua c'è un vestito bellissimo, non è bello, non mi piace, una cosa, non è bello, non mi piace, c'è una gucci di cervella, però questa qui, non è, dai, è carino, cosa dici, no, dai, beh, non mi piace, no, dai, beh, è carino, poi questa bossetta bellissima, con le, è bellissima, poi c'è gli occhiali, sopra la testa, però dovete staccarli, per usarli, perché li ha fissicati, qui sono, questo è un braccialetto, un'altra bossetta, una collana, delle scarpette, un vestito bellissimo, questo non lo voglio, e questo qui è ancora più bello, perché, non è un vestito, aspetta, fammi vedere, se non è un vestito, è un completino, come si dice, salupetto, in gilz, ed è bellissimo, non mi ha fatto toccare, non mi ha fatto toccare, non mi ha fatto toccare, dietro ci sono tutte, le parti, qua, in tutti, non mi ha fatto toccare, in tutti i modi, come si può fare così, come si può fare così, poi c'è, eh, ecco, la sono presa, la barbie marca Mattel, ma 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 ma, cosa stai dicendo, I love you Mattel, I love you, I love you, I love you Mattel, adesso la sfumiamo, eh, la sfumiamo, la sfumiamo, la sfumiamo, ah, volete la barbie, firmata da Simo, autografata, Timona Giordano, è al cos'è il filmare, aspetta, ma dai, ma mica sei famosa, ma Simo, ma che, ma che, ma questo si pensa, di essere, Italia's Got Talent, non c'è Maria De Filino, non c'è, 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 c'è, non c'è, non c'è, c'è Rodríguez, con i due, i due gommoni, i due, i due, i due cignoni, che fa una pop, Mazzini è quell'altro che non è più qua sottra, non è più qua sotto, non è che sorte, uno va su, un po' va su, non si sa dove fanno, fare un pochino a caso, perché lui ha preso un pugno visto che fa fusilato, lo ha fatto così, non è che è salito, salito lui. E adesso senti nel cervello, quindi le cose vanno direttamente nel cervello quando vuoi fare. Cioè questo cosa c'entra con i due, le orecchie adesso? Mi è messiato, mi è messiato qua il discorso, io stavo descrivendo quello che... Vabbè basta spegni, per favore, non ti spegno, a te il nodo te lo metto qua, non lo metto. No io stavo parlando il nodo, stavo parlando sulle orecchie. Va bene dai. Ecco, ce l'ha esattamente così. Tiro ancora di più, così sei zitta. Ah, ok. Poi c'è il Belen, che si mette i vestiti, che neanche lei lo sa, magari la prossima volta viene in costume, dentro lì. Senza mutande. Senza mutande. Cosa si vede la farfalla di Belen? No, c'era il flellino. Ah non c'era più, la farfalla è volata? Non aveva mica la farfalla? No, aveva il flellino. Ma no, aveva la farfalla di Belen. Flellino e Belen. Ma scusa, e dov'è la farfalla di Belen? È volata? Non c'era mica sul culo. Ah, e vabbè io mica gli vado a vedere là. Io vedo che c'è la farfalla. No, ma c'era... No, non mi tolgo, questo è un fiore. Ah, non è. È una farfalla, non so. No, non so, sono due cose uguali, tanto. Sono due quali. Comunque ragazzi... Ma che stiamo parlando di questo? Ma non lo so, ma... Anche se è nel big way. E questo video durà 40 minuti. Bah, adesso basta. È la numero 41, eh. Chi se ne frega? Come chi se ne frega? Ah, c'è scritto anche davanti, guardate. Anche davanti. Molto bella. Perché metti i miei miei? Sì, perché devono numerarle. Ah. Hai capelli ramati, che stanno i ramati con... Sembra che dietro è più scuri. Sì, bella. Dietro ce le ha più scuri. Anche io la voglio. Non la vai perché è mai andata. È andata. È andata. No, ma poi me la prenderò. È perfetta, eh. Questa è stampata pure bene. Adesso è il mio Natale. Cinco, tre, cinco, tre. Sì, è stampata benissimo. E gli occhi... Gli occhi mega di Natale. Veramente, veramente. Siamo. Detto questo, bene amici. Allora, noi concludiamo qua, perché se no il video si prolunga a parlare bene. Questa mangia le pizze. Cosa c'entra che quella mangia le pizze? Questa ascolta la musica. E tu mangi lo scotch? No, lo stiamo mangiando perché... Dobbiamo andare a cuore e per me... Bene amici, con questo video è tutto. Sassi zitta, muta. Silenzio, ma ti devo mettere un cappuccio? Aiuto! Ma ti metto nelle mie scelle. Tipo, non voglio fare il Diego. Ok. Sì, sono un Diego. Con questo video è tutto. No, non lo rompere, devo mettere dentro le cose. Ah, non lo sapevo. Con questo video è tutto. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento come domani con la puntata della famiglia Fontana. Che andremo a registrare adesso. Andremo a registrare. Sì! Se stai zitta. Se no non registro niente. Te lo dico io quando parlare. Con questo video è tutto. L'ho già detto 3000 volte, ma non me lo fa finire. Mettete, mi raccomando, like. Scrivetevi. Ma si vede a capire la bellissima la notifica dello stupido. T'ho detto di parlare? E quello che dico sempre io. Vabbè, ma adesso non devi parlare. Non ti ho dato il via che devi parlare. Ok. Niente. Tutto in descrizione e spero che questo video si sia capito. Perché come al solito c'è una disturba. No, si è capito. Perché io parlo e si è capito. Perché si è capito. Mi sento di essere anche se sono fattuti. Se vado all'apparicchio. E sto sputtando l'apparicchio come c'è un attivo apparecchio, no? E tu mi hai sputtacciato addosso? Forse. Forse sì, forse no. Non ti sta a prendere l'aria fattore e muovi tutto di te. Vabbè. Dal giveaway a tutti che vale. Ormai mi stai a sputtare il giorno tutto. Ai suoi germi. Bene, che è il video miscugliato. Non si capirà. Saranno quattro minuti perché 10 minuti sarà l'intro. Dove spieghervi le regole. 10 minuti sarà dove mostriamo tutto. E 10 minuti sarà la finale del video. Quindi sarà un'ora di video a caso. No, non è a caso perché noi spieghiamo cosa prendere. E' il giveaway. E' finito? Un bacio di bagno a tutti! Mamma mia. Comunque amici, di nuovo 10.000 volte grazie, anzi di più perché adesso 10.200 forse, 10.100, vabbè. 10.100 volte grazie. E' un bacio di bagno a tutti e quello. E' un bacio di bagno a tutti e quello. E come fa con 5 milioni di applausi? Eh, ma baci così fa. Non è finito. Cosa c'entra adesso fa vicino? E poi la via America che ha 10 milioni di iscritti. Ma non puoi fare un bar? Mamma mia. ma cosa ti sei mangiata non sto facendo di fare agoni tu hai detto che dobbiamo dare 10.000 baci ma lui come fa di rimandare 5 milioni di baci 10 milioni di baci ragazzi ciao Gessa no ancora 10.000 baci ciao ragazzi io ti do 10.000 schiaffi e non puoi come non posso non puoi non puoi ma no invece no 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 bene ma io ti ho scritto no no bene amici con questo video è tutto noi vi salutiamo e vi diamo perché non sei una sporcacciona questa l'ho fatta io l'ho fatta io mamma mia a scuola ma a scuola ma a scuola con questo video è tutto noi vi salutiamo andiamo vabbè ah ragazzo faccio la colonna suona la mano dietro singole 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 con questo video è tutto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani con la famiglia Fontana mi raccomando iscrivetevi al canale ragazzi ciao ciao dove va ciao iscrivetevi vi voglio bene ciao 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 ciao